A Gela in una settimana sono state controllate 685 persone, 297 veicoli e 23 attività commerciali. Elevate 37 sanzioni amministrative. È stata intensificata la vigilanza nelle zone dove nelle settimane precedenti si sono registrati episodi criminosi tra danneggiamenti seguiti da incendi avvenuti nella città. I controlli sono stati intensificati per condurre un'attività di prevenzione generale disposta dal prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, durante l'incontro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 28 aprile e sono stati coordinati dalla questura di Caltanissetta. Aumentati i servizi di pattugliamento nell'area urbana gelese e in particolare nel quartiere Scavone, Capo Soprano, Macchitella e Viale Indipendenza. Ed è proprio nella serata di ieri dalle 19 alle 3 del mattino che sono stati impiegati 6 equipaggi della Polizia di Stato, due dell'Arma dei Carabinieri, uno della Guardia di Finanza e uno della Polizia Municipale. Nel corso dei servizi sono state controllate poi 183 persone e 76 veicoli, eseguiti controlli nei vari domicili di 22 soggetti sottoposti a misure restrittive, 26 controlli amministrativi e esercizi commerciali, eseguite 5 perquisizioni ed elevate 15 sanzioni al codice della strada e di natura amministrativa. Così nel corso della settimana dal 25 aprile al 1 maggio la Polizia di Stato, con l'impiego di equipaggi del commissariato di Gela della divisione amministrativa della Questura, della Polizia Stradale e del reparto di prevenzione crimine di Palermo, ha proceduto al controllo di 502 persone e 221 veicoli, eseguiti controlli e 37 soggetti sottoposti a misure restrittive, 8 controlli amministrativi e esercizi commerciali e in generale svolto un lavoro di vigilanza sempre più capillare nelle zone che sono state identificate come quelle con maggiore frequenza di episodi criminosi. Sempre nel corso di queste attività sono state eseguite 3 perquisizioni ed elevate 22 sanzioni al codice della strada e di natura amministrativa. I servizi sul territorio gelese proseguiranno nelle prossime settimane.